Dimenticato per sette ore nello scuolabus ma per il giudice non è reato, si sarebbe trattato di una dimenticanza non perseguibile penalmente. È stato infatti archiviato il processo a carico delle due persone accusate di aver lasciato solo per ore un bambino di tre anni rimasto nel mezzo che avrebbe dovuto portarlo all'asilo. L'episodio risale al febbraio 2019, teatro dell'evento, il comune di San Giovanni Valdarno. Il bimbo al primo anno della scuola materna quella mattina attorno alle 8 era salito sull'autobus per essere accompagnato all'asilo dove però non è mai arrivato. Dopo quasi sette ore infatti attorno alle 15 era stato ritrovato al deposito dei Pullman, aveva ancora la cintura di sicurezza allacciata. A seguito dell'episodio avevano così preso avvio le indagini che avevano portato ad ipotizzare il reato per due figure temporaneamente sospese l'autista dell'autobus e l'accompagnatrice della cooperativa che ha in gestione il servizio. Il caso era già stato chiuso e poi riaperto circa un anno fa. Lo scorso 4 gennaio infine è arrivata l'archiviazione per entrambi dopo la richiesta avanzata dal PM Marco Dioni ed accolta dal giudice Giulia Soldini. Sull'ipotesi di reato dell'abbandono di minore il giudice esclude l'elemento soggettivo del dolo anche quello in forma di dolo eventuale. Quanto al reato di lesioni colpose personali, l'altro ipotizzato, il GIP mette in dubbio l'esistenza di un disturbo, una patologia da stress post-traumatico. Dunque ci sarebbero stati gravi errori e negligenze secondo il giudice ma non ci fu dolo, caso comunque sempre secondo il verdetto di sicuro rilievo civilistico.